La nostra emittente proprio ieri ha firmato un protocollo d'intesa con l'assessorato regionale alla sanità, in particolare il Dipartimento per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico. È un'importante notizia per la nostra emittente perché per l'assessorato l'informazione riveste molta importanza e deve essere quanto più trasparente e immediata sulle dinamiche di prevenzione sanitaria, dell'assistenza ambulatoriale, ospedaliere e riabilitativa attiva in Sicilia nelle varie realtà territoriali, superando gli ostacoli, si legge appunto nel protocollo d'intesa, che impediscono un preciso aggiornamento a vantaggio di tutti i cittadini e favorendo una concreta accessibilità. Perché c'è anche questo protocollo d'intesa? Perché l'emittente Medical Excellence TV, si legge nel protocollo d'intesa, è l'unico canale tematico di medicina presente nella regione Sicilia e catalizza l'attenzione dell'utenza interessata alle novità normative ricadenti nello specifico ambito. Cosa prevede il protocollo d'intesa? Il network Medical Excellence diffonderà messaggi informativi in tutta la regione riguardanti atti e provvedimenti adottati dal Dipartimento dell'Assessorato della Salute tramite gli strumenti operativi attualmente attivi e secondo le indicazioni dello stesso Dipartimento. Il Dipartimento fornirà al network materiale informativo riferimenti utili alla diffusione delle informazioni di interesse sanitario che saranno oggetto di divulgazione. Notizia molto importante ma noi in questo senso ci andiamo a sentire l'intervista proprio al dirigente generale del Dipartimento Ignazio Tozzo. Sentiamo. L'assicura di questo protocollo è un passo importante per quanto riguarda la sanità siciliana perché consente di avere degli strumenti per portare a conoscenza dell'utenza e quindi soprattutto della popolazione che molto spesso poi delle iniziative e degli aspetti più salienti che l'assessorato adotta non ne ha nessuna notizia. Quegli elementi informativi che sono fondamentali soprattutto in ambito di prevenzione primaria ma per tutte quelle novità che la sanità regionale può comunicare e quindi possiamo considerare elementi preziosi per indirizzare i cittadini nelle scelte di salute è fondamentale avere dei canali per poter raggiungere la popolazione anche la popolazione diciamo più minuta e sicuramente il mezzo televisivo è uno degli elementi fondanti per cui il passo che noi stiamo cercando di fare non è soltanto il fare perché il fare lo facciamo istituzionalmente ma il far sapere a tutti i nostri cittadini quelle che sono le iniziative quelle che sono le scelte di salute che possono tranquillamente adottare e soprattutto fornire la giusta informazione rispetto a quelle che poi sono le tematiche più rilevanti in ambito sanitario che si muovono a livello regionale.